Giovanni Pugliese, Managing Director Telecom and Security. Signor Pugliese, Telecom and Security è qui al TB Forum e quindi proprio come azienda espositrice. Qual è la vostra impressione di questo mercato, degli operatori russi e della fiera stessa? Sì, buongiorno. Siamo estremamente contenti di essere venuti qui al TB Forum. La fiera della sicurezza è una fiera molto interessante per noi. Sì, gli operatori sono molto professionali e il mercato è sicuramente un mercato in grande espansione. Sappiamo tutti che la Russia fa parte del BRICS e quindi puntiamo molto su questo mercato per il futuro. Benissimo. Per quanto riguarda i prodotti che voi avete presentato qui al TB Forum? Sì, noi siamo specializzati in connettoristica coassiale e abbiamo portato un prodotto innovativo, un nuovo connettore BNC ad alta qualità per gli impianti HD CCTV. Abbiamo visto che c'è stato un fortissimo interesse. In realtà è la prima volta che incontriamo questo settore qui in Russia e quindi stiamo cercando dei distributori, ma abbiamo avuto moltissimi contatti e quindi siamo molto fiduciosi per il futuro.